Salve, buongiorno, saluti, bentrovati, Clara, Cuomo e Esporto Maddarela, siamo qui per la giornata nazionale dello sport, qui noi siamo un'associazione di ginnastica artistica e oggi vi mostreremo una piccolissima parte di quello che è stato il nostro lavoro durante l'anno, faremo vedere esibizioni di ginnastica artistica di livello avanzato ma anche in base con le nostre battaglie piccole che sono il nostro orgoglio perché la ginnastica è di tutto, durante l'anno sportivo abbiamo partecipato a tante manifestazioni sportive, vietendo tanti tanti premi con l'orgoglio della penisola sorrentina, e lei è la campionista regionale? livello LC avanzato, GAP, sì, è vero, è vero, facciamo vedere qualcosa, auguri e complimenti mamma mia, eccezionale volevamo fare un appunto se è possibile, e noi dall'anno prossimo ritorniamo a lavorare a Sant'Agnello perché là le nostre bambine nella scuola elementare Gio la fiodo perfetto, il nome dell'associazione? centro ginnastica Revolution IAIA, abbiamo doppia sede a Sorreto e a Sant'Agnello dall'anno prossimo, auguri, grazie